Se il prossimo anno, nel 2022, torniamo a superare il mezzo milione di passeggeri, sarei molto contento. È l'estate 2022 quella che dovrà dare la piena spinta al traffico aereo. Per l'aeroporto delle Marche, l'obiettivo del mezzo milione di passeggeri è una correzione in corsa Covid rispetto al milione atteso dalla nuova dirigenza del Sanzio in tre anni. L'antipasto intanto arriverà con le nuove rotte per giugno 2021 che affiancheranno Sicilia, Sardegna, Londra, Germania e Bruxelles. I nuovi collegamenti prevedono Parigi, Barcellona e due città tedesche, Berlino e Dusseldorf. La Germania è traffico di qualità, quindi anche per il territorio avere un income in tedesco significa avere un passeggero importante, un passeggero un po' spendaccione, un passeggero che vive sia al mare che le città d'arte. Dall'AD di Airdorica un sì convinto al passaporto vaccinale, edizione aggiornata in stile Covid rispetto a quanto avviene, per esempio, in Africa con una febbre gialla. Io sono stato molti anni, quasi dieci anni in Africa e in Africa c'è già il passaporto sanitario, cioè uno può andare in Africa solamente se è vaccinato per tutta una serie di vaccinazioni.